Salve a tutti e ben ritrovati all'AgriWeek Recap. È stata un'importante settimana nella quale abbiamo lavorato tantissimo per la nuova programmazione, abbiamo ottenuto un importante tavolo verde nel quale abbiamo condiviso la ripartizione dei 113 milioni che ci sono stati trasferiti al governo come risorsa aggiuntiva tra le varie misure e abbiamo anche ragionato su quando e come uscire con i nuovi bandi nel periodo 2023-2027. Ma abbiamo parlato anche della delibera sui giovani e sull'avviso che sta per essere pubblicato nelle prossime settimane, gli uffici sono al lavoro per recuperare anche la credibilità nei confronti dei tanti giovani che hanno risposto al bando del 2017. Quindi stiamo lavorando in maniera molto serrata, abbiamo anche notificato a Bruxelles il regime di esenzione, quindi siamo proprio alle battute finali. Nel contempo in questa settimana abbiamo pubblicato bandi per circa 41 milioni di Euro, abbiamo pubblicato il bando della misura 442 per i moretti a secco nella costiera Amalfitana e Sorrentina, abbiamo pubblicato il bando per il nuovo insediamento dei giovani in agricoltura e anche bandi per la misura 16.1.2 che riguarda la ricerca e l'innovazione per elevare gli standard qualitativi della nostra agricoltura. In giunta regionale abbiamo approvato un'importante delibera, abbiamo modificato il calendario venatorio per venire in conto alle esigenze che ci sono state rappresentate dalle varie associazioni dei cacciatori, abbiamo tenuto conto però in questa modifica delle condizioni ambientali e anche delle condizioni meteorologiche che in queste ultime settimane sono mutate rispetto alle previsioni di qualche settimana fa. Ovviamente in questo settore noi dobbiamo lavorare ancora tanto, dobbiamo avere la disponibilità dei dati, dei flussi migratori, per questo motivo abbiamo sollecitato ulteriormente l'osservatorio affinché per la prossima stagione possa davvero fornirci i dati necessari per eliminare qualsiasi dubbio e per mettere in campo dei calendari che siano davvero rispondenti alle esigenze di tutti gli attori in campo. Quindi, e lo dico a tutte le persone interessate, il calendario venatorio è stato modificato con l'avvio della caccia per le specie acquadiche il giorno 18 settembre e per il 21 per la guaglia e il faggiano. Spero che questo sia un elemento importante anche nel rafforzamento del dialogo con tutte le associazioni di categoria. Come tutte le settimane, anche in questa settimana, ci siamo occupati della questione brucellosi, c'è stata un'importante riunione presso la Presidenza, con il Presidente De Luca, con il Commissario Cortellese, il Subcommissario e il Direttore Generale dell'Asla. Abbiamo discusso delle varie problematiche che sono all'ordine del giorno nell'agenda del Commissario e soprattutto delle varie istanze che ci sono state rappresentate dagli allevatori. Allevatori che ho incontrato diverse volte anche io in questa settimana, pongo delle questioni serie che dobbiamo affrontare, intanto però le prime risposte sono fortemente positive. Innanzitutto abbiamo sbloccato i pagamenti di molti indennizi che erano bloccati in amministrazione per motivi burocratici, stiamo dando seguito alla definizione della procedura più giusta per avviare il ripopolamento, soprattutto all'interno dei 500 metri. Stiamo lavorando ovviamente anche a dare certezza agli allevatori con l'istituzionalizzazione di un centro unico a Grazianise proprio per essere più immediati nel rapporto con gli allevatori. Ovviamente restano alcune problematiche per quanto riguarda la vaccinazione e l'autocontrollo, ma anche su queste questioni ci stiamo lavorando e ci torneremo la prossima settimana. In molti mi scrivono circa le problematiche che stanno attraversando gli operai idrargo-forestali per il ritardo nei pagamenti. Ho rassicurato tutti che la Regione ha fatto tutto quanto di sua competenza. Adesso il lavoro spetta soprattutto alle comunità montagne, noi abbiamo assicurato le risorse e loro devono assicurare la progettazione. Questa progettazione deve essere di alta qualità per assicurare un futuro alle nostre foreste e per impegnare ovviamente adeguatamente per quelle funzioni gli idraulico-forestali. E per rafforzare questo processo anche innovativo che abbiamo messo in campo. Dalla prossima settimana avvierò un tour presso tutti gli enti delegati per individuare le eventuali criticità e anche mettere in campo eventuali soluzioni. Ma in questa settimana sarà forse per il periodo della vendemmia. Ci siamo occupati di tantissimo di vino. C'è stata la cabina di regia nella quale abbiamo deciso le iniziative da mettere in campo per i prossimi anni in tema di promozione. Abbiamo anche discusso dell'incarico da conferire a Nomisma per l'individuazione del posizionamento dei vini campani nel contesto globale e anche per l'individuazione di una operazione di branding regionale che comunque dobbiamo mettere in campo. Ma è stata anche la settimana delle feste. Siamo stata alla festa del vino di Castelvenere. Bellissima iniziativa. Il comune più vitato d'Italia. E' stato ben due volte a Torrecuso. Iniziative sia della Coldiretti che della Cia. Abbiamo parlato del vino, dello scenario futuro e nelle quali ho anche avuto modo di lanciare qualche provocazione sulla necessità dell'aggregazione nel settore vitivinico e soprattutto della grande operazione di marketing che dobbiamo mettere in campo. Mi fermo qui. Vi do appuntamento alla prossima settimana. Il saluto speciale di quest'oggi è per Carmine. Il nostro caro Carmine di cui ci siamo ricordati semplicemente perché la sua merenda, pane e mortadella, emana un profumo tale che ci inibisce di andare avanti. Ciao a tutti!